Ma che ci si fa qui oggi? Siamo alla ricerca di un cantante. In libreria. Perché alla cultura è la base. Ma sta zitto, ma perché in libreria? Mi hanno detto c'era un cantante. Ma chi te l'ha detto? Voci. Però ti sentono anche le voci? Guarda c'è il numero di uno bravo se tu vuoi? Comunque me l'ha detto Franco. Sera. Sante, buonasera. Prego. Cercavamo un cantante. Un cantante? Che se una libreria? Ci avevano detto il cantante. Cercate qualcosa? Un pezzo a cappella. Che se una libreria è mica un sexy show? No, nel senso strumenti. Ce lo fa un pezzo? Vabbè, lo faccio. Oh, via. Dai, dai, dai. Il mondo non si è fermato mai un momento e ne faremo sapere. Grazie, un piacere, eh? Dieci. Ma questo è da chi l'ha visto mai? Comunque. Forza parere.